La data dell'aggressione e del massacro di questo giovane estremista di destra ricorda una storia italiana, una storia tragica, comune a tante vicende di quegli anni, anni di piombo, anni di radicalizzazioni politiche estreme che portano il Paese sull'orlo dell'abisso fino alla vicenda di Aldo Moro. La storia di quegli anni resta viva nelle ferite dei protagonisti, resta viva nella memoria del tempo e tuttora nel dibattito politico riemerge periodicamente con una lezione che non deve esservi alcuno spazio per l'intolleranza e per l'odio politico di qualsiasi colore esso sia.